Musica Proseguono i lavori di riqualificazione a via Falanga, nel cuore dell'area mercatale di Torre del Greco. L'angolo, alle spalle della centralissima piazza Santa Croce, che sarà abbellito, secondo i piani dell'amministrazione comunale, con panchine, fioriere e un albero d'ulivo. Un'area per fermarsi ed intrattenersi, soprattutto pensata per gli anziani. Gli interventi, partiti a luglio, proseguono in queste settimane, senza arrecare disagio ai commercianti della zona e agli abituali frequentatori dell'area. I lavori, in particolare, prevedono la riqualificazione del manto stradale, le fognature ed elementi di arredo urbano. Prevista anche l'installazione di dissuasori e telecamere di videosorveglianza per garantire la sicurezza in piazzetta. Interventi che, step by step, con lavori in corso nelle prime ore pomeridiane, dovrebbero terminare alla fine del mese di settembre.